Ma Yuri, perché in Giappone sono le donne? Non ho sentito ancora la domanda, cosa si? Perché in Giappone le donne preparano o compro, preparano delle torte, del cioccolato, fanno, non so, qualche dolce, oppure vanno a comprarle fuori e le danno agli uomini invece che il contrario? Perché non sono gli uomini a comprare gli oggetti e dare alle donne? Ma perché? Gente che non è squilla, ma prima di rispondere dovrà rispondere a me. Perché Giapponesi e molto Giapponesi, donne e molto gentili, non lo so. Non lo sai perché? Immagino. Oh my! Oh my! Le pati chéri. Le maître chocolatier. Le 82. Le 29. Je m'appelle... Giuseppe. Chocolat. Ok va bene. Je m'appelle Ola. Olè. It's called fudge brownie. In italiano non lo so, fudge brownie. Mostra il lippacco. Non è il mio però. US made. Si però il titolo è napoletano. Oggi fudge brownie. Biden, Biden. Ma che Biden? Ma che c'entra? Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Questo uno. Ed uno. Ah! Quello prendo così. Come come? Chiunzze te. Si chiama brownie comunque perché è brownie. Ma come? è marrone. Per questo. In America sono molto fantasiati qui. No! Ma si spezza, Yuri! Guarda, guarda, guarda. Ok. Così. Ok. Ok. E così? Eh! Ri appicciare, ri appicciare. Posso tagliare? Si. Square, ok? Sì, sì, sì. Ok. Ci siamo, boys. Sono senza parole. Magari provando un altro pezzo. È particolare, cioè. Come vi posso spiegare. Non... Fatevi provare un altro pezzo. Magari... Magari... Vi so spiegare meglio. O inizio a spiegarvi com'è. Altro pezzo. Sa di cioccolato. Ok? Qui ci siamo. Sa di cioccolato. Non è fondente, perché... Non sento il gusto del cacao amaro. Quindi al latte, sicuro. È molto soffice. Sono veramente senza parole. Non sdegna. È un gusto che non sdegna, questo. Poi c'è questa superficie frastagliata, che... No? Mi ricorda un po' la Norvegia, le coste norvegesi. Finendolo di mangiare, però... In realtà mi sono confuso le coste finlandesi. Forse anche le norvegesi. Non lo so. Comunque il nord Europa... Sembra... Un pisello... Moscio. L'uno vale l'altro. Secondo me... Andrebbe bene con della panna. Perché... Non lo so. Così istinto. E anche molto leggero. Devo essere sincero... Non sono un grande fan di questa roba, comunque. Per me è un quasi no, comunque. Un quasi no. Si scioglie in bocca. Quindi... Questo è qualcosa di positivo per me. Non mi piacciono le cose che si sciogliono in bocca. Non come lo sperma che... Si è piccicoso. Se lo ingoi... Poi... Da ingoiare è duro. Ne so qualcosa, io. Sapete qual è il punto migliore di questa... Brownie. Brownie? Che finisce. Un altro punto a favore... Di questo Brownie... E che... Se siete arrivati fino a qui... E' grazie all'editing... E al... Taglio e incollo esposto. E mi state anche guardando... Inizio a ringgiare tutta questa falsa. Perché ovviamente... Non è che sto mangiando solo tutti qui. Però continuiamo. E questo non lo taglio. Ok ragazzi... L'ultimo pezzo. Questo lo mangio per davvero. Non sto ben soddisfatto. Mi fa schifo. Non ve lo suggerisco. Troppo morbido. Troppo molle. Poi c'è la parte superficiale che sembra pelle morta. Quindi per me è un grosso... No. Al prossimo video. Basta. Buon San Valentino. Basta. Ma Valentino chi è? Io mi chiamo Giuseppe. Buon San Valentino. Chi è sto Valentino? Valentino Rossi. Valentino uno stilista. Non lo so. Lo so.